it super veloce una breve sessione it total body di livello intermedio plus utile da combinare ad altri workout faremo un breve riscaldamento due blocchi 30 30 con esercizi singoli e combinati e terminiamo la sessione con un breve del faticamento vamos ok iniziamo super riscaldamento iniziamo con un buon riscaldamento spinta indietro vai di questo super workout ad alta intensità modalità it vai due colpetti 3 2 1 incrocio braccio orizzontale vai allarghiamo e incrociamo sopra sotto gambe leggermente piegate e allargo sopra e allargo sotto e allargo vai scaldiamo bene la parte superiore e poi la parte inferiore del corpo circonduzione braccio avanti vai testa dritta iniziamo a respirare respirazione sempre naso e bocca mai lavorare in apnea 5 4 3 2 1 circonduzione braccia indietro un pochino più lento il movimento vamos vamos scaldiamo bene mai sottovalutare riscaldamento meglio ci scaldiamo e meglio lavoriamo vai 5 4 3 2 1 torsione tronco largo le gambe piego leggermente vai a destra e a sinistra scaldiamo bene il tronco vai 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 respirazione attiva vai 3 2 1 mani dietro la testa tocchiamo il ginocchio alternato salgo bene cerco di toccare gomito ginocchio se non ce la fai ti fermi un po prima vai saliamo 5 4 3 2 1 calciata dietro pam 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 iniziamo a muovere bene le gambe abbiniamo il movimento delle braccia scaldiamo bene anche la parte sotto vai 5 4 3 2 1 calcio in avanti alternato passettino dietro salgo passettino dietro salgo provo a toccare la punta faccio arrivare il piede sulla punta se non ce la fai non importa ti fermi prima 5 4 3 2 1 saltello vai saltello a destra e a sinistra gamba dietro vai pam 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 alterna bene con le braccia alterna bene con le braccia 3 2 1 aumentiamo un pochino jumping jet vai braccia leggermente piegate la mano le mani toccano in cima le facciamo toccare pam in modo che lavoriamo anche l'addome vai 5 4 3 2 1 ok recupero attivo respira ok il riscaldamento ci siamo iniziamo subito con squat più a fondo indietro alternato 3 2 1 inizio hit 30 30 vai pam e vado dietro pam pam e vado dietro squat a fondo squat a fondo le braccia lavoriamo bene con le braccia pam pam e dietro vai incrocia bene le braccia devono fare movimento insieme al corpo ok corsetta sul posto respira cambio esercizio ripartiamo in plank in corsa quindi andiamo giù braccia tese ok e iniziamo con la corsa su plank che non è altro che le ginocchia verso il petto ok addome contratto e andiamo 3 2 1 vai addome contratto lavoro sulle gambe ginocchio verso il petto mantengo il ritmo pam 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 respira 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 3 2 1 sali calciata dietro recuperiamo vai 20 secondi ripartiamo andiamo con lo skater respira respirazione sempre attiva mi raccomando non lavorare mai in apnea respira 5 4 3 2 1 skater vai mantieni movimento non ti fermare rapido agile atletico bruciamo grasso tonifichiamo vai 3 2 1 corsa lenta sul posto vai respira 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 recupera bene prossimo esercizio è top per stimolazione gambe e glutei squat discesa lenta in negativa carico e vado in jump lavoro di gambe lavoro di gambe glutei interno esterno coscia 3 2 1 scendo piano carico squat jump scendo piano carico squat jump vai pam scendo piano trattengo salto e squat jump molleggio quando vengo giù dal salto quando vengo giù dal salto già sono con le ginocchia piegate trattengo 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 vai che brucia pam 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 carico ok calciata dietro recupera riprendi fiato squat in discesa più jump brucia lavora tantissimo passiamo al prossimo workout plank in movimento più push up questo è bello tosto ve lo faccio vedere due modalità una più facile e una normale vai andiamo giù 1 2 e push up 1 2 e push up la versione più facile è 1 2 appoggio le ginocchia vado giù e risalgo vi faccio rivedere pam pam appoggio le ginocchia e risalgo ok per i più temerari questa versione vai ok corsa sul posto recupera 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 quindi due varianti di push up con il lavoro del ginocchio una più facile e una un pochino più difficile skip laterale più il salto facciamo uno skip veloce laterale da una parte scegli il lato e poi il saltello 3 2 1 vai papapapam e salto papapapam e salto vai aumenta il ritmo pam papapapam hop papapapapam vedi le braccia come lavorano sincronizzato vai veloce 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 e salto veloce 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 e salto papapapam corto corto vai respira ultimo ok recupera dai che lavora dai che lavora respirazione mai in apnea se no poi vai in affanno respira vamos vamos skip laterale più salto dall'altra parte adesso lo facciamo 3 2 1 vai papapapapam saltello skip veloce saltello skip saltello skip papapam saltello vai mantieni il ritmo vai 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 seguimi hop skip papapapam e vai skip salto vai salto ultimo papapam salto su un altro ole dietro recuperiamo lo skip è veloce con l'utilizzo delle braccia che ci aiutano nella performance del movimento e il saltello è breve movimento scattante e veloce respirazione attiva funziona questo workout io lo sento tanto 3 2 1 pausa ok ripartiamo secondo blocco squat e a fondo indietro vai stesse tempistiche lavoriamo intenso veloce rapidi bruciamo calorie tonifichiamo vai attivazione gambe attivazione glutei pam 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 vai vai ok corsetta lenta sul posto respira respiriamo approfitta di questi momenti di recupero per riprendere il fiato e poi sparare tutto nella parte attiva ripartiamo plank in corsa andiamo giù 5 4 3 2 1 vai velocità rapidità respirazione attiva addome contratto vai appoggia bene le mani appoggia bene braccia tese e spingo 10 secondi resisti vai vai vamos 3 2 1 calciata dietro piano piano riprendi fiato riprendi fiato recupera ripartiamo con lo skater mi raccomando incrociamo bene le gambe nello skater e utilizziamo le braccia respirazione 3 2 1 ok skater vai pam pam vado un po' giù col busto inclino il busto e lavoro braccia e gambe pam 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 vai 10 secondi hop hop 5 4 3 2 1 corsetta lenta sul posto recupera riprendi fiato abbiamo il super squat discesa lenta carichiamo e il jump squat discesa lenta carichiamo e il jump lavoriamo molto su gambe e glutei forza esplosiva resistenza bruciamo grassi 3 2 1 squat discesa lenta carico jump squat subito discesa lenta carico jump vai vai tengo trattengo carico e spingo quando casco vado subito giù ricarico utilizzo le braccia nella spinta vai giù giù lento trattengo carico salto trattengo carico salto ok braccia dietro con le gambe dietro per scaricare vai scarichiamo brucia io lo sento lo senti anche tu andiamo ritorniamo al plank in movimento più push up lo facciamo in due modalità quella più difficile e quella un pochino più facile 3 2 1 modalità difficile push up 1 2 push up 1 2 push up modalità facile 1 2 appoggio le ginocchia push up 1 2 appoggio le ginocchia push up e andiamo vai pam pam modalità difficile vai 3 2 1 corsa letta sul posto recupera hai due modalità più facile e più difficile puoi provarle entrambi e spingi fino in fondo vamos recupera respira ripartiamo skip laterale più salto breve corto decidi il lato 2 1 vai salto salto vai lavora con le braccia vai vai mantieni il ritmo pam 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 dai torniamo in forma insieme rassodiamo rassodiamo tonifichiamo aumentiamo la resistenza il fiato fisico bello e funzionale 3 2 1 cambio respira respira riprendi il fiato naso bocca calciata dietro ripartiamo dall'altra parte skip saltello skip saltello 5 4 3 2 1 vai saltello vai veloce 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 vai mantieni il ritmo bruciamo grasso vai 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 rassodiamo fisico super vai 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 vamos dai 5 secondi resisti pam 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 saltello 3 2 1 cambio corsetta lenta sul posto ottimo lavoro ci siamo respira naso bocca vai respirazione fondamentale nel corpo libero come in tutte le attività la respirazione ti permette di ossigenare meglio lavorare meglio e non entrare in apnea 2 1 pausa perfetto iniziamo il nostro super defaticamento step touch scarichiamo respiriamo iniziamo la respirazione naso e bocca per riossigenare il corpo ok mani sui fianchi andiamo un po' su con le gambe scarichiamo il lavoro vai abbassiamo i battiti gamba dietro gamba dietro 3 2 1 allargiamo le gambe respirazione andiamo giù prendiamo aria sali tratteniamo un po' l'aria e buttiamo fuori e buttiamo fuori vai e buttiamo fuori torsione del tronco piano piano movimento lento controllato sempre respirazione attiva respira 5 4 3 2 1 allungamento distensione braccio sinistro ok quindi andiamo con il braccio sopra la testa vai manteniamo la posizione 3 2 1 sciogli le braccia dall'altra parte vai sopra la testa pieghiamo un po' manteniamo la posizione allunghiamo 5 4 3 2 1 sciogli cambio stretching gamba sinistra andiamo a prendere il collo del piede avviciniamo il tacco dietro la mano può stare sul fianco oppure puoi utilizzare il braccio per la stabilità 3 2 1 giù sciogli andiamo con l'altra gamba la destra stesso discorso prendiamo il tallone prendiamo la gamba e avviciniamo il tallone equilibrio utilizziamo le braccia come stabilità 5 4 3 2 1 incrocio gamba sinistra quindi la sinistra la portiamo in avanti andiamo giù piano 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 arriviamo fino al punto che ci permette di tenere le gambe sempre tese senza piegarle e sentiamo lo stimolo dietro dell'allungamento mantieni la posizione 3 2 1 risalgo piano piano incrociamo la destra vai giù mantengo la posizione con la gamba distesa facciamo un ottimo stretching per sciogliere i muscoli 3 2 1 vieni su piano piano ok il tuo workout è finito hai fatto un ottimo lavoro se non sei iscritto al canale iscriviti e consiglia un amico vamos un ottimo lavoro non sei iscritto al canale 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 vieni PDF